Il 22 aprile per il quarto anno si celebra la giornata per la salute della donna. Onda, l'osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dedica la settimana dall'11 al 18 aprile ad una serie di iniziative per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Il servizio di team diabetologico ospedaliero gestisce una parte dei pazienti per operatori che vengono ricoverati in ospedale, tra cui c'è una quota consistente di donne, donne che, è noto, sono più affette da diabete e alterazioni della glicemia e che sono più suscettibili all'iperglicemia proprio durante le patologie acute e ricovero ospedaliero. Per questo motivo abbiamo pensato di predisporre un percorso proprio dedicato alla donna per le patologie, ad esempio, chirurgiche più tipiche. All'iniziativa aderisce anche l'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste attraverso il network Bollini Rosa, fornendo servizi clinici, diagnostici e informativi. Le fratture sono molto invalidanti perché quelle più frequentemente correlate all'osteoporosi sono quelle di vertebra e di femore. E quindi ci è sembrato importante in questa settimana dare libero accesso alla popolazione con delle visite gratuite che si possono appunto prenotare per il giorno di sabato. In un simile contesto riveste un'importanza particolare l'impegno del centro sclerosi multipla della clinica neurologica, impegno ai cui risultati sono stati formalmente riconosciuti e certificati. La Fondazione Onda ha fatto un accensimento, una mappatura dei centri sclerosi multipli italiani per vedere quali di questi centri avessero le caratteristiche ritenute basali per poter accompagnare in un progetto di genitorialità le donne. Il nostro centro ha rispettato questi criteri e quindi il 28 marzo a Milano ha ricevuto questa targa. Ed è quindi un impegno che noi portiamo avanti per cercare di... Grazie a tutti.